Cioè... Nooo... Inizia con uno Inizia con uno Sono due Sono pronti a prendere il posto Ce ne sono due che sono pronti a prendere la fascia Che in cor misura delle due cederà Perché i due sono fasciati E si può Comunque Vi dico Che la telefonata tra le sorelle quindi vince la telefonata e la fascia la fascia di Miss Sorriso Liguria andrà quindi alla numero 16 Silvia Abruzzese brava 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 brava